Buonasera, sono sempre quello di prima per presentarvi un gruppo di giovani che sono cresciuti a pane e zappa, anzi forse posso dire troppo poco, sono cresciuti a zappa e zappa, entrano con la baldanza tipica dei ventenni gli ossi duri. Gentilissimo pubblico di Milano, buonasera. Noi siamo gli ossi duri, arriviamo da Torino, siamo felicissimi ovviamente, oltre che onoratissimi di essere su questo palco questa sera per celebrare il genio di Frank Zappa. Non possiamo esimerci da ringraziare i personaggi che ci accompagneranno su questo palco questa sera, primo da tutti il maestro che ci ha presentato, Elio. E adesso, con l'eleganza che ci contraddistingue, presentiamo i membri della band. Al basso, il romanzo. Alla chitarra, Martin Alle tastiere e alla voce, Muschio Allora noi siamo felicissimi, ripeto le stesse cose che ho appena detto E di essere qui questa sera per celebrare il genio di Farinzappa, scusate Ho una scaletta che mi sono fatto in testa, devo ripetere ogni tanto Siamo appena usciti con tre cd, marchiati Ossiduri Ma questa sera, giuro, faremo solo Farinzappa, niente Ossiduri Non faremo i brani del cd che è appena uscito e che è in vendita Proprio nel foyer a pochi spiccioli Quindi cominciamo con un repertorio esclusivamente dedicato a Farinzappa Allora, se tutti i ragazzi sono pronti, io mi sposto alla mia postazione Vai! Andrea Di Gliocco Allora, se tutti i ragazzi sono pronti, io mi sposti, 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 io mi spost Grazie per la visione!